Nelle stesse ore dei sopralluoghi in Calabria della sottosegretaria Ferro e del Perfetto Valenti altri migranti continuano a sbarcare. A Crotone i volontari della Croce Rossa sono stati allertati per l'arrivo in porto previsto nella tarda serata di una unità della Guardia Costiera con a bordo più di 200 persone soccorse nel mare Ionio. Ci sono già pronti sia i posti letto che i kit contenenti beni di prima necessità in modo da poterli dare nell'immediato e in accoglienza. Al termine della ricognizione sulle strutture calabresi davanti al Prefetto Valenti, probabile prossimo commissario straordinario per la gestione dell'emergenza si apre una strada in salita. Lavoreremo, lavorerà il commissario sulla base di quello che l'ordinanza stabilirà. Io in questo momento non posso dire qual è il perimetro dei poteri che il commissario avrà. Evidentemente più saranno ampi e più ci sarà la possibilità di incidere rapidamente ed efficacemente. Per la Calabria le previsioni per i prossimi giorni parlano di nuovi arrivi in massa. Uno scenario che riporta in primo piano la necessità di una ridistribuzione tra i paesi europei dei migranti. Una priorità insieme ad una più marcata presenza di Bruxelles sottolineata anche dalla sottosegretaria Vandaferro. E' lo stesso presidente Mattarella, ma lo stesso, non voglio mischiave sacro e profano, ma lo stesso Papa in qualche modo ha fatto degli appelli sottolineando la necessità di mettere in campo azioni reali e concrete dove l'Unione Europea veramente abbia quel compito per il quale è nata e quindi insomma continuiamo su questa sala. Dopo la riunione operativa in prefettura, Ferro e Valenti sono andati al cara di Isola Caporizzuto, una struttura ai limiti dell'agibilità che già accoglie 600 persone, ma che da stasera ne avrà altre 200 in più.